Un saluto a tutti i lettori di Ardolf Fund. Oggi grazie alla collaborazione con l'ufficio stampa di Sony Italia abbiamo a disposizione un sample di Xperiae, ovvero uno smartphone entry level proposto dall'azienda in questo 2013. Dunque, a quasi due anni dal lancio del Sony Xperia Mini, il produttore giapponese è ormai ritornato a produrre un terminale entry level dalle dimensioni contenute. L'Xperiae è rivolta a tutta quella fascia di utenti che preferiscono uno smartphone tascabile agli ampi display che caratterizzano le linee app di questo 2013. L'Xperiae monta Android 4.1.1 Jelly Bean con Timescape UI e alcune applicazioni proprietarie di Sony, fra cui estes piccano il lettore musicale Walkman, il software di gestione dei social network Timescape, tracchi di per riconoscere i brani musicali, un lettore di codici a barre e Sony Musical Ltd. Il contenuto della confezione, inutile farvelo vedere, è ormai divenuto quello standard per tutti i produttori. Troviamo il caricabatterie da parete, il cavo USB e gli auricolari, oltre ovviamente allo smartphone e alla guida per il primo utilizzo. Parliamo di design. Il design di questo Xperiae è piuttosto contenuto. I materiali sono di plastica, infatti è un terminale con dimensioni di sole 113,5 x 61,8 x 11 mm di spessore e 115,7 g di peso. Troviamo inoltre, anteriormente, questo display da 3,5 pollici con 262.000 colori, piuttosto che lo standard di 16 milioni di colori. Anche la risoluzione è piuttosto bassa, essendo una HVGA con 320 x 480, che apporta la densità di pixel a sole 165. Ai lati del display troviamo le classiche connettività che ci consentiranno di accendere o spegnere il dispositivo sulla destra o semplicemente regolare il volume con il bilanciere posto sempre sul lato destro. In basso troviamo questa sulla riga comata che nasconde dietro un LED di notifica, troviamo a sinistra l'entrata per il cavo USB-Micro USB ed in alto troviamo il jack pensieri delle cuffie nel formato standard. Posteriormente troviamo la fotocamera da 3.2 megapixel, il logo Xperia ed inoltre l'altoparlante per il viva voce. Che altro dirvi di questo Xperia E? Anteriormente non troviamo la fotocamera frontale e a proposito dei tasti capacitivi notiamo la presenza del deprecato tasto menu che una volta appeggiato per un paio di secondi ci consentirà di aprire il multitasking. Adesso ve lo mostro, eccolo qui con Android 4.1.1 Jelly Bean, l'area attività è piuttosto scarsa, a scapito quindi delle prestazioni tecniche. Ecco qui il multitasking che appare sotto certi punti di vista un po' scattoso. Che altro dirvi? Questa fotocamera da 3.2 megapixel, nasconde al suo interno quindi non è un terminale né body, la batteria da 1500 mAh, lo slot per inserire una sim nel formato standard ed inoltre troviamo anche la possibilità di inserire una microSD fino a un totale di 32 GB. Richiudiamo il vano posteriore ed andiamo ad esaminare un po' le caratteristiche di questo Xperia E. Xperia E è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon S1, single core, 1 GHz, chip grafico Adreno 200, 512 MB di RAM. Memoria di archiviazione è pari a 4 GB suddivisa in due partizioni, quella principale che è da 750 MB che è per le applicazioni ed è una partizione secondaria da 2 GB nella quale possiamo inserire film e tutti i nostri dati. Tale memoria, come vi ho detto prima, è espandibile con microSD fino ad un totale di 32 GB. La fotocamera, come vi abbiamo detto, è da 3.2 megapixel ma non sono presenti né il flash LED né l'autofocus e quindi qualora si volessero scattare fotografie in formato da 16 noni la risoluzione massima scende a 2 megapixel. Inoltre, la risoluzione video e la registrazione video non supera la risoluzione VGA, ovvero 480p. Le connettività sono, diciamo, uno dei punti forti di questo Xperia E. Troviamo le reti GSM, quad band, HSDPA, dual band con velocità di download massimo di 7,2 MB per secondo. Sono inoltre presenti il Bluetooth 2.1, Wi-Fi, DLNA e la GPS. Assente è invece la connettività NFC di cui Sony è fra i principali promotori. E' assente pure il sensore di luminosità per regolare automaticamente la brillantezza dello schermo. Con un processore single core non ci aspettavamo grandi prestazioni e infatti i nostri test hanno rivelato diversi rallentamenti e lag anche nell'esecuzione delle applicazioni preinstallate. Anche durante la navigazione ed internet il browser stock a volte stenta a caricare le pagine con contenuti multimediali. La qualità immagini invece che ripresa con quella con la fotocamera da 3.2 megapixel ci è sembrata discreta, quindi nella qualità medio-bassa, ma non comprendiamo i motivi che hanno spinto Sony a utilizzare una fotocamera di così bassa qualità quando anche il precedente Xperia Mini aveva un sensore da 5 megapixel con il flash, autofocus e capacità di registrare video fino a 720p quindi in HD. La resa audio è piuttosto buona sia utilizzando l'altoparlante dello smartphone sia con gli auricolari. Per quanto riguarda i consumi, grazie alle dimensioni limitate del display si riesce ad arrivare a fine giornata nonostante la capacità piuttosto limitata della batteria che è sicuramente una 1500 mAh quindi non è una batteria molto ma molto potente. Esaminiamo un po' questo Xperia E dal punto di vista software, come vi abbiamo detto è la Timescape UI ovvero la classica interfaccia grafica di Sony che scorre su questo dispositivo, è un'interfaccia piuttosto leggera ma a noi non tanto piace perché si rivela un'interfaccia molto molto semplice, non ha molte delle chicche che hanno un po' come la Sense o la TouchWiz di Samsung ma che altro dirvi integrati tantissimi programmi come Whatsapp, il File Commander e tantissime altre applicazioni Play Music, Walkman, Evernote, LinkedIn, YouTube, Smart Connect, Music ai Video, Play Books, Play Now, Music Unlimited come vi abbiamo detto prima, Neck Reader per il lettore di codice a barre, News Republic che ci consentirà di ricevere delle notifiche semplicemente abbassando la tentina delle notifiche, come potete vedere qui ne abbiamo un esempio, abbiamo ricevuto una notizia da Ulder City Ultimissime e nient'altro. effettuiamo il test di chiamata di questo Xperia e abilitiamo l'altoparlante e alziamo il volume come vi abbiamo detto l'audio non è male sia in chiamata sia attraverso gli auricolari o lo speaker come abbiamo visto e nient'altro. Apriamo il menu, richiamoci nel browser e facciamo vedere un po' il corriere, si sta già aprendo, l'abbiamo impostato come home page. Dopo vi faremo vedere anche la tastiera che non ci è sembrata molto buona, infatti abbiamo installato una di terze parti quale Smart Keyboard. Come avete visto il pinch to zoom risulta sì fluido ma molte volte, cioè nel 90% dei casi troviamo dei rallentamenti. Come abbiamo visto ora non sta prendendo il dito, ecco qui. Nient'altro, nella pagina ricordiamo non abbiamo abilitato il flash player, si è ancora finendo il caricamento, scrolling abbastanza veloce, vediamo un po' il doppio tap, sì non è male dai, e nient'altro. Quindi il reparto browser promosso ma sinceramente non ha pieni voti. Messaggistica, avremo i messaggi, è un messaggio, vediamo un po' la tastiera, eccola qui, è quella classica Sony, possibilità di portare il landscape in portrait velocemente grazie al sensore che ci consentirà di girarlo. Proviamo a scrivere, ciao a tutti di hardware phone, è abilitato anche lo swipe che ci consentirà di avere una digitazione più positiva, ma noi come vi abbiamo detto abbiamo scaricato anche la Smart Keyboard Pro che sicuramente è meglio su questo dispositivo. Apriamo il Play Music per farvi ascoltare un po' la qualità audio di questo dispositivo, apriamo la prima canzone a casa qui sotto. Ok, ci era venuto anche un messaggio di crash del dispositivo dell'applicazione Play Music ma la musica comunque riusciva a scorrere positivamente sotto di essa. Abbiamo i classici widget di Sony che ci consentiranno di abbellire la nostra home page al nostro piacimento, noi abbiamo inserito un po' i vari widget all'interno di questa interfaccia, andiamo nel menu impostazioni che si rivela il classico Android, possibilità di abilitare e disabilitare il contatore degli MSMS, le chiamate, il sistema stamina per risparmiare batteria e nient'altro. Arriviamo alle conclusioni, conclusioni piuttosto positive, in generale il Sony Xperia è un terminale di fascia bassa pensato per chi cerca dimensioni contenute e intenzione di utilizzare solo le funzioni base e la gestione dei propri social network. Peccato però che Sony in Italia lo vende ad un prezzo piuttosto elevato, a nostro giudizio perché con quella cifra è possibile acquistare smartphone con processori dual core e display dalla risoluzione migliore. Il prezzo in Italia è di circa 200€ ma in rete è possibile trovarlo anche ad una cifra di 150€ ma considerate anche lo smartphone Xperia U che non è male, ha un processore dual core ma la pecca è che Sony non ha aggiornato quest'ultimo, ha l'ultima distribuzione di Android Jelly Bean che invece è montata su questo dispositivo. Non comprendiamo dalle scelte di Samsung ma ci speriamo in un futuro migliore. Questo è stato Antonio Morra per Hardware Phone, ciao!